Siamo a Casavesenna con l'autore del libro Nato a Casal di Principe, una storia in sospeso, Amedeo Letizia. Oggi ci sarà la presentazione di questo testo scritto e solo un mese fa la nuova ordinanza ha riaperto il caso della scomparsa del fratello di Amedeo, Paolo Letizia, ucciso dal clan dei Casalesi durante la guerra, diciamo, la pulizia etnica effettuata stesso dal clan dei Casalesi nei confronti della Francia dei Bardelliniani. Amedeo, sei ritornato nei luoghi della tua infanzia, della tua gioventù per presentare questo libro. Cosa vuoi dire ai lettori di Caserta Ceno? Intanto ringrazio te, ringrazio Caserta Ceno per questa opportunità che mi date e ringrazio anche Libera, Pasquale Cirillo, per questo evento. Io ci tenevo a venire perché proprio dopo questa ordinanza volevo dire qualcosa riguardo a questo, e cioè che mio fratello è una vittima innocente della Camorra, della criminalità organizzata. Perché? Perché queste persone che nella loro mente volevano fare pulizia etnica di presunti bardelliniani veri o di presunti bardelliniani facevano terra bruciata intorno a loro anche solo per un sospetto, un sentito o qualsiasi cosa così negativa gli potesse dire la testa. Il problema è che non c'è mai stato da parte di queste persone una vera razionalità anche nel gestire la criminalità. Loro facevano di tutto il buonfascio e hanno fatto di questa terra quello che poi è di quello che stiamo pagando le conseguenze. Io dopo l'ordinanza è stato un colpo terribile perché leggere i nomi di chi aveva fatto quello che dicevi per me è stato terribile, per me e per tutta la mia famiglia. Devo ringraziare Linares e soprattutto Aldituro per come hanno gestito, per come hanno portato a termine questa indagine anche perché non ci dimentichiamo è un delitto compiuto 25 anni fa, quindi senza prove ed è stata una grande vittoria per la giustizia. Adesso qual è il desiderio della tua famiglia? Cioè dopo 25 anni quante speranze ci sono di ritrovare il corpo di Paolo Letizia? Diciamo che tutto è nato proprio per dare una degna sepoltura a mio fratello quindi tutte le cose che dicono, quello che ha fatto e quello che dicono, quello che potranno dire, noi ci interessa poco o niente ma quello che vogliamo è che qualcuno ci dica dove è il corpo per sepellirlo in un cimiterio, in una tomba come tutti i degni cristiani. Questo è stato il primo desiderio e quello che ancora ci fa andare avanti. Il libro è nato proprio per questo perché è stato un grido di dolore e una richiesta di aiuto alla magistratura, alla giustizia per farci trovare il corpo di mio fratello. Ad oggi siamo a degli indizi ma ancora non c'è un posto preciso quindi io esorto la procura di Napoli, sembra che il dottor Borrelli abbia preso l'indagine di mio fratello di fare tutto quello che è possibile per darci quest'altra notizia importante. Siamo con Valerio Taglioni a Casa Pesena al centro sociale Antonio Cangiano. Valerio oggi la presentazione del libro nato a Casaldi Principe una storia in sospeso. Un tuo commento, un tuo parere su questa iniziativa, sul fatto che Amedea Letizia oggi è qui con noi e parlerà del caso del giudiziario, del libro inerente alla storia di suo fratello. Innanzitutto è un piacere stare qui a Casa Pesena e che ci siano queste occasioni in cui si parla, si fa memoria, si continua quel percorso di riscatto di queste terre. Lo stiamo facendo anche attraverso attività concrete ma anche attraverso questi momenti di incontro, di dialogo, di ricordo e di memoria sono importanti. Quindi anche la storia del fratello di Amedeo è una storia che è emblematica di un periodo storico molto particolare che abbiamo vissuto in cui si spariva, si uccideva senza nemmeno comprensione di quello che stesse accadendo. E quindi è importante dopo tanti anni riannodare il filo della memoria e provare a ricostruire attraverso tutti quei pezzi di storia che sono stati in qualche maniera abbandonati quello che siamo stati per vivere un presente migliore costruendo un futuro diverso per questo territorio. Siamo a Casa Pesenna con il referente del presidio libera Casa Pesenna, Pasquale Cirillo. Pasquale, oggi la presentazione di questo libro, Nato a Casal di Principe, è una storia in sospesa. Come mai questa scelta di questo testo e qual è il messaggio che vogliamo lanciare? Abbiamo scelto questo testo, Nato a Casal di Principe, di Amedeo Letizia e Paola Zanottini, edizione Minimum Fax, perché ci è sembrato una storia interessante, una storia di 25 anni ma che attualmente i nuovi risvolti degli inizi di ottobre sembrano molto attuali. Quindi la scoperta di una storia del nostro territorio, una storia molto triste, una storia della fine degli anni Ottanta, quando c'era una guerra tra due clan, quelli del clan Bardellino e dell'ala degli Schiavone e di Bidognetti. Una storia quindi particolare, molto intrigante, che ha visto scomparire un giovane di Casal di Principe, scomparire nel nulla. Non si è mai trovato il corpo, la mamma ha fatto gli appelli negli ultimi tempi e questo è stato quello che a noi ci ha colpito, questa insistenza della voglia della giustizia da parte dei genitori e degli stretti familiari, quella di avere giustizia. Perciò abbiamo pensato di invitare il fratello Amedeo, proprio per capire meglio la storia e per farla conoscere anche ai giovani del nostro territorio. Grazie.